Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar. Ho 70 anni, vive l'Italia, sulle delle viti bellissime e precisamente in Cattuoli. Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar. Ho 70 anni, vivo in Italia, sulle delle miti bellinesi e precisamente in Cadore. Ho 70 anni, vivo in Italia, sulle delle miti bellinesi e precisamente in Cadore. Ho 80 anni, vivo in Italia, sulle delle miti belliche di Campi. Ho 80 anni, vivo in Italia, sulle delle miti bellini. Ho 90 anni, vivo in Italia, sulle delle meti bellissime e centrale.